bene amici di avvi batti tech channel eccoci qui per un nuovo e breve video purtroppo il tempo a mia disposizione non è molto ma volevo farvi vedere questo lavoro di pacciamatura infatti se lo riconoscete questo lo stesso è la stessa porzione di terra che utilizzato nel video sulla recensione della moto zappa elettrica e inel infatti vi invito anche a vedere quel video che sta anche avendo un discreto successo e in cui appunto sono andato a recensire questa moto zappa elettrica e inel da 1400 watt questo lo stesso porzione di terreno quindi è stata prima vangata dopodiché appunto zappata con questa moto zappa elettrica e ora si è passati alla semina meglio al trapianto diciamo di queste piantine di pomodoro e alla pacciamatura per pacciamatura si intende appunto fare un lavoro del genere ovvero con questo telo che voi vedete che sono andato appunto a porre in questa posizione andare a ricoprire tutto il mio terreno facendo dei fori soltanto dai quali fuoriescono le piantine di pomodoro come voi vedete ogni piantina è stata vi è stato messo il suo bastone proprio perché queste man mano che crescono vanno legate man mano al loro bastone i lavori che sono da fare infatti sono il continuare a legarle al proprio bastone e anche il togliere quelle che sono vediamo se le troviamo esatto guardate qui vedete questa questa questo germoglio che è esattamente tra un ramo e l'altro queste 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 sono da togliere ora non mi viene il termine preciso ma comunque appunto sono da da rimuovere per favorire anche qui vedete per favorire una corretta crescita della pianta di pomodoro quindi come voi vedete ognuna è stata appunto legata al suo bastone e questo telo per pacciamatura questo è il termine è stato forato per fare in modo che vi escano soltanto le piantine di pomodoro questo dovrebbe ridurre di molto appunto le erbacce quindi la crescita di altre piante indesiderate in questa porzione di terreno e quindi dovrebbe favorire sia i pomodori perché non vi sono altre piante a rubare nutrimenti ed acqua che sia anche il mio lavoro che dovrebbe essere inferiore nella rimozione appunto delle erbacce ogni volta che vengo a fare la manutenzione appunto all'orto come vedete anche qua abbiamo un'altra pianta in cui andiamo a rimuovere questo pezzo che diciamo non serve questo germoglio che non serve anche qui quindi questo appunto lavoro da fare con le vostre piante di pomodoro nel caso ve lo stesse chiedendo quindi ora vi faccio vedere appunto anche un po meglio siamo andati appunto a eseguire la pacciamatura di tutto questo di questa porzione di terra qui come voi vedete siamo andati con queste queste erano barre d'armatura che sono state tagliate da me con un seghetto per ferro sono state piegate e sono state inserite appunto in questa posizione come voi vedete per tenere fermo il telo mi arriveranno anche di nuovi ganci ma nel frattempo per appunto mantenerlo in posizione sono andato utilizzare questi che sono erano delle barre d'armatura che sono andato a piegare a mano tagliare con un seghetto per il ferro e piantare con la mia zappetta appunto in questa posizione come vedete le piante sono tutte molto bene e le ho bagnate anche ieri appunto questo telo non fa sì che le piante comunque possano essere bagnate non c'è nessun problema sono state appunto tutte legate ai loro pali e questo è un work in progress si vedono anche delle piante di zucchina vediamo se riesco a farvele vedere queste sono delle piante di zucchina anche qui con la tecnica della pacciamatura voi vedete che esce solo la pianta di zucchina questo è importante perché le piante di zucchina sono piante che poi andranno a occupare diciamo una vasta area di terra che altrimenti sarebbe stata ogni volta da rimuovere dalle erbacce che vi si sarebbero appunto andate a crescere e a creare quindi questo è tutto un work in progress infatti ora andrò anche ad apporre un altro un altro fermo comunque a eseguire degli altri lavori è tutto un work in progress ma volevo mostrarvelo proprio adesso dato che comunque ci ho dedicato del tempo e delle energie volevo mostrarvi appunto il lavoro eseguito finora io vi ricordo che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like potete condividerlo con i vostri amici che magari sono interessati all'argomento e potete iscrivervi al canale infatti le vostre iscrizioni per me sono sempre molto importanti fatemi anche sapere magari in un commento se vi interessano più video di questa natura quindi sull'orto o comunque sulle tecniche di coltivazione magari fatemelo sapere qui sotto di modo che io possa anche un po' orientarmi per i prossimi video detto ciò e in compagnia di questi bellissimi di queste bellissime piante di pomodoro io vi saluto vi do appuntamento ad un prossimo video dal Bibatti Tech Channel intanto giusto per darvi ancora qualche upgrade rapido appena svolto sono andato a cambiare quest'asse che infatti ora è delle dimensioni giuste mi permette di camminare tranquillamente a metà del mio orto e sono andato ad aggiungere un altro gancio di questo tipo sempre piegato da una barra d'armatura e tagliato con un seghetto per ferro in quella zona diciamo in fondo al mio orto intanto anche quest'asse probabilmente sarà sostituito perché è un po' diciamo stretto vedete anche qua le mie zucchine come escono dal telo perfettamente e quindi questo sarà veramente sono veramente anche curioso la prima volta che faccio passiamature in questo modo e sono curioso di vedere come si riusciranno appunto a sviluppare infatti le zucchine come anche le zucche solitamente viaggiano molto diciamo fuori terra come si andranno a sviluppare senza altre interferenze quindi senza altre piante erbacce erbe comunque appunto erbacce delle quali non sicuramente non vogliamo che interferiscano con la nostra coltivazione quindi sono veramente veramente molto curioso vedete anche qua come c'è perfettamente anche queste sono state bagnate andrò a bagnare ancora anche oggi con queste immagini io vi lascio ad un prossimo video un saluto dal bibatti tech channel un saluto dal bibitto un saluto dal bibitto